Mio padre è morto dopo 54 anni complicati. È un nome difficile da portare come un sorriso mai segnato da dubbi. Non andavamo d'accordo. Invecchiando trovo in me particolare di lui alla mia età di adesso. Qualche segno delle mani, un'espressione allo specchio, un tono di voce. Questa cosa non mi piace per niente. Da quando se n'è andato ho un'eredità natalizia. Avevo un amico, un milanese conosciuto al servizio militare in Friuli nei loro vent'anni. Era l'inizio degli anni sessanta e devono essere stati momenti di grande condivisione e scoperta del mondo. Questo tizio io l'ho visto solo due volte, da bambino. Gente che aveva più borghesia e più borgia di noi. L'ho rincontrato quell'amico lontano solo davanti al letto di mio padre morente. Da allora quell'uomo ha deciso che io sono mio padre. Ogni tanto la vigilia di Natale chiama. Parla con me venti minuti di cose che non so e di un periodo in cui non ero ancora nato. al tono cameratesco che usava con lui e si sbaglia perfino a chiamarmi per nome. Mi dice, ti ricordi quello lì, quella là, esattamente come fossi lui. Non ho mai condiviso le scelte di mio padre. L'ho odiato cordialmente, da sempre. Ora che non c'è più sono sereno. Ho risolto le cose che avevo in sospeso. Ma ogni anno sento una voce che parla di lui come una persona meravigliosa. E ne parla come non ne ho mai sentito parlare. Non lo riconosco in quelle storie di amicizia durata oltre alla naturale scadenza. resto in silenzio davanti alla devozione di un signore che mi estraneo e che chiamo ogni tanto da molto lontano e per pochissimo tempo. È una devozione che non è nemmeno paragonabile alla mia, che è quasi assente. 20 minuti, non uno di più. Anche stamattina parla, racconta, quasi piange. Si congeda e mi chiama col suo nome. Poi si corregge. Mette giù. Non era con me che voleva parlare. Non era di me che aveva bisogno. Mio padre per tanto tempo mi ha telefonato solo una volta all'anno, la vigilia di Natale. Era l'unico gesto che sentiva di fare nei miei riguardi, vista l'evidente ostilità che gli riservava. Quella telefonata, fatta da 9 chilometri distanti e freddi, quanto lo stretto di Pering, gli costava molto. Ma non se la negava mai. Un punto dolore. Ciao figlio, tuo padre sta bene. Fatti sentire ogni tanto. Come sta tua madre. Valla a trovare. Almeno lei. Ciao figlio. Buon Natale. Per uno come Mettuccio doveva essere uno sforzo grandissimo. Grandissimo. Oltraterreno. Talmente grande che ancora non si è esaurito del tutto. A presto. A presto. A presto. Pag. 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 Grazie.